Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, sono Riccardo di Genes Detailing e oggi vi mostrerò la lavorazione di questa fantastica Kia Picanto GT Line. Kia Picanto del 2019 è la versione più potente a 100 cavalli questa macchinetta, una macchinetta veramente interessante, ma come tutte le macchine, anche se nuove, questa macchina attualmente a 200 km ha i suoi difetti. L'auto mi è arrivata già con dei difetti sul trasparente, qualche difettuccio derivato da errati lavaggi, molto probabilmente durante il pre-consegna dell'auto, il proprietario non l'ha mai lavata e si è affidato a me per il primo lavaggio, la prima bella decontaminazione, per una lucidatura a specchio e successivamente una protezione nanotecnologica. Quindi, come al solito, io ho riportato le superfici a uno stato nudo e crudo, cioè un bel pre-lavaggio, un bel lavaggio, una bella decontaminazione chimica e una bella decontaminazione meccanica, in modo tale da avere le superfici perfette e pronte per la lucidatura. L'ispezione ha rilevato tutto quello che state vedendo ora, cioè segni, micrograffi in giro per tutta l'autovettura. Bene, il mio compito è stato lucidare sia la parte correttiva che rimuove tutti i graffi, sia la parte estetica per portare, diciamo, la finitura a specchio della superficie. Ora, una piccola particolarità di questa vernice, è super delicata. Ero già abituato per le macchine coreani e giapponesi a trovare trasparenti morbidi, molto morbidi, ma questa volta si sono battuti. Il trasparente sopra le parti verniciate di metallo è super morbido. Io ad oggi non avevo mai incontrato una carrozzeria così morbida. Quindi, la correzione è stata fatta con un tampone medio e il polish che ho usato è un polish medio, linea Rupes. Quindi, tappo giallo, keramico e tampone giallo, sempre della Rupes. Quindi, questa è stata la fase di taglio. La fase di finitura, invece, come al solito, ho usato Essence, in modo tale da preparare le superfici alla successiva protezione nanotecnologica. Quest'auto aveva proprio bisogno della nanotecnologia. Ha, diciamo, preso la nanotecnologia in una maniera eccellente. Si vedeva che aveva proprio bisogno. Richiedeva alla vernice uno strato di protezione aggiuntiva perché le superfici delicate, a questi livelli, praticamente bastavano 3-4 lavaggi fatti male in una maniera brutale e avrebbero distrutto completamente il trasparente. Distrutto, nel senso, avrebbero creato numerosissimi graffi e micrograffi. Successivamente, alla fase di lucidatura, ho protetto con la nanotecnologia. C-Quartz Professional come base coat su tutta la carrozzeria, C-Quartz Gliss come top coat sulla parte della carrozzeria e Deluxe, stavolta lo usato per i cerchi e le parti in plastica non verniciate. Quindi, un'auto adesso così, nuova, perfetta, esente di difetti e protetta dalla nanotecnologia, verrà veramente aggutato dal proprietario. Il proprietario ha 19 anni, è la sua prima auto, se l'ha acquistata con tanti sacrifici e ha deciso subito di fare una lucidatura a specchio perché si era già accorto lui che c'era qualche difettuccio. È una protezione nanotecnologica professionale in modo tale da pensare solamente ai lavaggi di mantenimento super semplificati grazie alla protezione e godersi questo spettacolo di lucidatura che farà invidia per me e a tutti i suoi amici. Se siete interessati anche voi a un trattamento del genere contattatemi, io in descrizione lascio tutti i miei riferimenti dalle pagine social alle pagine direttamente del mio sito internet dove potermi contattare, ho un form dedicato all'interno del mio sito dove potermi avanzare delle richieste preventive, delle richieste informazioni. Quindi, se siete interessati, contattatemi perché io riesco sempre a trovare una soluzione a qualsiasi tipo di problema riguardante la carrozzeria, la lucidatura e la protezione nanotecnologica. Quindi, se il video vi è piaciuto, cliccate like, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste già fatto e mi raccomando, seguite i miei video perché stanno arrivando un sacco di novità super interessanti però ancora non vi voglio svelare niente. Un saluto da Riccardo di Genes Day Tailing. Ciao ciao!